buongiorno a tutti si riprende dopo un giorno di riposo dire che ci voleva ci stava siamo tutti bei freschi visto anche la temperatura si è abbassata affrontiamo una tappa direi lunga abbastanza facile definirei guardando l'altimetria siamo super motivati ieri abbiamo riordinato un po le idee ma il giro è partito bene sta continuando bene e auguriamoci che continui in questo senso non la tappa oggi si riparte dopo il giorno di riposo finalmente è una bella giornata bel sole 100 chilometri prima di divertirci i nostri ospiti sono carichi non vedo l'ora di partire quindi vediamo di fare il meglio possibile ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. La maglia Sara Assicurazioni per la classifica Sprint va al team Valsir. E' Roberto Ferrari a vestire la maglia rossa per quanto riguarda il team Valsir. L'hanno gareggiato, oltre a Ferrari, Narciso Bettinsoli, Aldo Donofrio, Riccardo Gentile, Patrizio Campanella e Nicola Gaffurini.